5 avvisi di chiusura indagine sono stati inviati ad altrettante persone nell'ambito del filone d'inchiesta retino relativo alla sicurezza sulla I-45. I destinatari degli avvisi, secondo quanto appreso, sarebbero Antonio Mazzeo, già capo compartimento ANAS della Toscana, due dirigenti dell'area tecnica e due dirigenti dell'area manutenzione. A I-5 la procura retina contesta l'ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti perché avrebbero adottato comportamenti omissivi sulla manutenzione del tratto toscano dell'Ai-45 eseguendo interventi di manutenzione non in linea con la sicurezza. Un tratto stradale questo da sempre è pericoloso, soprattutto negli ultimi anni e chi lo frequenta quotidianamente lo sa molto bene. Molto male, tutte le buche e tutto lo sparto che è crepato. Che tratto l'ha fatto lei? Io la faccio spesso, da Bologna, da Perugia fino a Perugia è così, da Perugia poi cambia. Buche, mancanza di corsie d'emergenza, purtroppo la condizione questa è. I piadotti, i guardali non sono adeguati, secondo me, a vederla. Proprio da schifo perché adesso poco prima c'è un incidente lì a casa Saraceno, uscita, e mi pare che un cambio sarà andato giù o una macchina sicuramente sarà anche bloccato. Però l'Ai-45 è un macello perché è pieno di buche. Noi con il cambio facciamo fatica a spostarci perché dobbiamo stare attenti sempre a vedere lo specchio retrovisore perché ci passano come matti e praticamente le strade sono tutte spiassate, non si vedeva già bene. Corsie d'emergenza sono negativi, corsie d'emergenza non c'è niente. Poco prima c'è una della NAS sulla strada che ha lasciato il fulgone, ho messo l'emergenza per far capire agli altri che mi stavano sorpassando e mi ha frenato di colpa perché non so come lavorano. Con una persona sola lascio il cambio in mezzo alla strada per vedere i buchi dove stanno e non è normale. Ha visto segnaletica? No, fino adesso no, perché c'era questo cambio qua fermato mezzo alla strada, facevo con la mano così, però nessuno ha capito niente perché mi stavano chiesto il panasse, chi sorpassava l'altro, c'era colonna dietro di me. Allora hanno capito con l'emergenza che gli ho messo, hanno capito che c'era un ostacolo davanti.